La sua disponibilità, chiedo, i titoli del Verona secondo lei devono rimanere tranquilli, la gestione Setti va avanti, a me risulta che il centro sportivo a breve partirà perché il terreno è già stato acquistato, come Comune di Verona mi può dare la conferma in merito, ci sono altre novità in sarbo, antistadio e quant'altro? Ma allora, fino adesso il rapporto con l'Ellas e con le società è quello di continuità, di normale continuità sugli investimenti e quindi in particolare per l'Ellas, anche per il centro sportivo intorno a Forte Lugagnano, si misura anche da lì, si vede se mantiene la serietà negli impegni presi, nel continuare ad investire, se continua ad investire vuol dire che ha l'intenzione seria nei confronti della città e della società, lo vediamo e ne proseguo, le persone si misurano sui fatti, sui fatti e quindi anche sugli investimenti perché poi quando, se uno ci mette i soldi, se uno ci mette i soldi allora vuol dire che ci crede, se uno non ci mette i soldi allora pensiamo. Grazie a tutti.